Sul finire di luglio si può ben dire che il tempo non è stato clemente, tutt'altro. Certo, la speranza è l'ultima a morire e forse qualche sprazzo di sole all'orizzonte, come ha dichiarato il presidente dell'Associazione di Protezione Civile CER, Crescenzio Bastioni. Le previsioni da qui alle prossime 72 ore danno un graduale miglioramento, avremo un discreto fine settimana, anche se rimarranno le problematiche o comunque i rischi di temporali nella parte più interna degli appennini. Dunque un graduale miglioramento, almeno fino a martedì. Poi potrebbe esserci una nuova fase perturbata, anche se, dichiara Bastioni, le previsioni possono valutare in modo più certo un arco di tempo di 72 ore. Certo, la curiosità su ciò che sarà questo prossimo agosto c'è, ma la risposta non era quella che ci si auspicava. Temo che non sia rose e fiori come qualche d'uno anticipava, temo che queste fasi perturbate continueranno, speriamo con minore intensità rispetto a luglio. Si parla di cambiamento climatico da anni, ma forse iniziamo ora a capirne il senso attraverso una percezione che non risponde più alle aspettative date dall'abitudine di vivere il periodo estivo, secondo le logiche del passato. Siamo di fronte a un graduale cambiamento climatico, ci stiamo, per così dire, un po' tropicalizzando, ma non per il maltempo, bensì per la violenza con cui il maltempo si presenta. E questo è abbastanza preoccupante. Le persone non sono preparate, questo fa sì che laddove ci sono nubifragi o situazioni abbastanza estreme e capitano sempre più spesso, vediamo e ci rendiamo conto che i danni sono tanti e le persone non sanno farvi fronte, quindi ci vuole anche un po' di prevenzione, un po' di lavoro alla base di queste situazioni, di questo clima che cambia.